ciao a tutti oggi prepareremo le tortine di mele il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono farina per dolci zucchero semolato burro fuso vanillina uova mele tagliate a pezzetti piccolini cannella la scorza di limone lievito per dolci e zucchero a velo diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone la cannella e lo zucchero semolato chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale aggiungiamo le uova chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 6 adesso aggiungiamo il burro fuso il lievito per dolci la vanillina e la farina per dolci chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 il composto è quasi pronto adesso aggiungiamo le mele che abbiamo tagliato a pezzetti piccoli chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi con l'anti orario a velocità 3 composto è pronto adesso lo trasferiremo in una teglia per muffin che abbiamo rivestito con delle cartine adesso li cuoceremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 20 minuti circa le tortine alla mela sono cotte lasciamo le raffreddare prima di servirle tortine di mele grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao